Vorrei che faceste un applauso al magazzino di Gilgamesh, a Dennis che ci ha invitati. Noi ci siamo aperti al locale e ci permettono di fare questo incontro. Al fonico di palco, là giù in fondo, che governa i suoni. Quindi se dovreste raggiungere altre volte a crescere la musica d'antimo, vi accorgerete di che cosa significa un locale dove si fa musica live praticamente tutte le sere della settimana. Qui tutte le sere della settimana ci sono dei gruppi che suonano, che vi fanno vedere cosa significa fare la musica, cosa significa dialogare tra gli strumenti. Ecco, io vorrei dirvi, prima magari di chiedere ancora qualche cosa a Steve, che avete avuto la possibilità di avere un vero e proprio vocabolario di tutto quello che è il blues.